Ciao cari, tu sei? Matteo. Matteo, Antonio. Ah Antonio, ciao Antonio e grazie per avermi aiutato nel supporto ripresa. Ciao Antonio. Grazie a tutti. Siamo già squadrati. Ciao, tappalmando scusami, mi dimentico sempre. C'è questa signora qua? Sì, è nuova, è nuova. Sì, gli ho detto di frequentare la quarta dove vuole fare un bel corso formativo nella quarta. Ma è della nostra zona? No, lei è dei Colli Aminei. Allora quindi la vostra zona? Io gli ho detto di frequentare la quarta se vuole cominciare a capire come funziona. Ah, ho capito. Poi magari può venire nella quinta. Certo, certo, certo. Ma ho visto anche un'altra ragazza. Ciao Dario. Benissimo. Come stai? Benissimo. Ho visto anche un'altra ragazza che pure diciamo era nuova, che addirittura stava proprio nella zona di Firenze con una ragazza bassina con il vestito nero. e praticamente lei ha detto che sta nella zona di Ercolano quindi anche lei voleva incominciare un po' lei ce l'ho detto ha detto che lei è già venuta a qualche riunione sulle rivellazioni ultime che abbiamo fatto però ho detto se tu stai nella zona di Portice Ercolano guarda sulla pagina Facebook perché ci sta anche in quella zona stai almeno un po' più vicino se ti devi un po' aggregare fa piacere che tu possa muoverti andare ovunque però se stai nelle tue vicinanze ti è più facile seguire ora l'ho persa d'oggi è venuta a prima e tu dici come sta procedendo questa organizzazione questa organizzazione di questa festa io spero di venire è un po' lontano